Musica Ed eccoci giunti finalmente all'inizio di un nuovo culto attraverso il quale ancora questa sera il Signore ci parlerà. Quindi buon ascolto, buona visione da Radio Messaggio Cristiano con la pace del Signore Gesù. Musica Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome Signore, per grazia Tua, per volontà Tua, Signore ancora questa sera siamo qui nella Tua casa, per adorarti, per ringraziarti, Signore perché anche questo lo hai stabilito Tu, Signore perché ci sia la Tua casa, dove tutti possiamo lodarti insieme come una vera famiglia e dove tutti insieme possiamo ricevere gli insegnamenti da parte del Padre nostro, alleluia, che sei Tu, che ancora questa sera sei in mezzo a noi. Quindi ammaestraci, oh Signore, facci vedere, Signore, tutti i lati negativi della nostra vita, finché nessuno di noi si inorgoglisca, ma ognuno di noi ricerchi a come presentarsi un giorno in una maniera migliore davanti alla Tua Divina Presenza, quando i Tuoi libri saranno aperti ed anche, Signore, i sospiri del cuore saranno registrati, Signore salteranno fuori a nostra salvezza o a nostra condanna. Non sia santificato il tuo nome e glorificato ancora questa sera perché sei in mezzo a noi per non farci mancare i Tuoi insegnamenti. Non possiamo dire, Signore, che non Ti abbiamo conosciuto perché non Ti sei fatto conoscere, se non Ti abbiamo conosciuto è perché non abbiamo voluto conoscerti, ma questa sera il nostro cuore, come sempre, è aperto davanti a Te. Parla, Signore, ad ognuno di noi ed ogni Tua parola rimanga scolpita nelle profondità dell'anima finché, Signore, possiamo, uscendo da questo luogo, Signore, con il nostro comportamento, con il nostro agire, testimoniare di Te, che siamo i Tuoi figli e che veniamo educati giorno per giorno da parte di un padre che non ha nulla a che vedere con quelli terreni che possono sbagliare in qualsiasi momento. in Dio, Signore, rendi il nostro orecchio sensibile alla Tua voce e gradiscene, Signore, l'offerta delle nostre labbra, del nostro cuore come soave profumo insieme a Gesù che con Te lo benediciamo ora e sempre in eterno. Amen, Amen, Amen. E a te lo benedicensa oggi amato che pe voglia in grove a Gesù Grazie a tutti. 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 Conosco invece un altro fratello che gli dicevano, fratello prega, chiedi allo Spirito Santo al Signore che così ti batteggia con lo Spirito Santo. Suo fratello glielo chiedeva al Signore, no? E glielo chiedeva veramente con tutto il cuore, no? Tanto che c'è tutti, siccome non riceveva, si faceva, signora, se tu non mi batteggia, mi batta del tumore. Lo conosco, 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 come se fossimo stato una stessa persona. e poi la sorella sta domandando io ero io anche poi se ne va a casa creatura con un potente ruolo era il tuo fratello io non sono nato battezzato con lo Spirito Santo il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo che era già sposato e allora in vera età ci faccio signore ma io stai pregando ma che non mi battezzi quindi dentro di me c'era questo ardone questo desiderio vivo che veramente faceva il Signore perché io mi genocchiavo a tutte le volte pure un tuo gabinetto e che poi mi ricordo che il Signore mi ha battezzato pensate quando eravamo eravamo a casa mia questo in vera dico lo Spirito Santo mi ha battezzato a casa ma perché? ci credevo con il cuore un'altra cosa siccome io devo fare i bicchieri per la Santa Cena allora i bicchieri della Santa Cena è inutile che ogni anno io faccio i bicchieri che ora sono li faccio sempre gli stessi è inutile che voi buttate a meno che non volete fare un servizio volete fare un servizio voi dici io mi faccio tutti allora per non fare perché perché richiede del tempo non pensate che perché io non è che sogno un vasaio io mi ranccio lì quindi devo fare allora ho pensato se ce li avete se qualcuno non l'avesse rompiu lo dite lo dite che che io ne faccio un numero piccolo poco perché altrimenti ne avessi a fare minimo ne avessi a fare una cinquantina perché perché ci sono quelli che si sono battezzati e che non ce l'hanno quindi ne dovrei fare invece così con una decina io ora ripeto se la cosa vi va bene che voi li potete portare amén altrimenti io non ci sono problemi tacco domani a mattina tacco e ne faccio ciò guante va bene allora così così mi dite quelli che mancano contate le famiglie io ne faccio qualcuna un paio le faccio quelle lì che mancano per esempio quelle sorelle che si sono battezzate va bene è così allora una domanda la dobbiamo fare senza cena all'imbrugio ah l'imbrugio del 14 guarda ora come ora e sento poi non so se il signore dovesse rivelarci diversamente però ritengo che sia più corretto farla giorno 13 sera pomeriggio amén non giorno 14 e vi spiego niente stasera lettura bastonate non ce ne sono no ma e allora vi spiego subito eh facciamo così allora il giorno eh biblicamente parlando perché ci sono dei punti nel vecchio testamento che lo fa capire chiaramente che il giorno cominciava con l'imbrunire amén e allora ai nostri giorni oggi come oggi eh il giorno comincia a menzanotti è giusto? comincia a menzanotti sì o no? sì oh allora non cominciava a menzanotti incominciava all'imbrunire per esempio eh noi ce ne possiamo accorgere più o meno l'ora l'ora che nel mese di marzo perché l'inverno scura prima è vero? poi mano a mano scura da meno allora per avere un'idea ma credo che sia quello l'imbrunire più o meno le sette eh poi ora più o signorone che sta per tanti anni ci ha fatto fare vedete la buona fede come Dio premia la buona fede noi siamo siamo andati avanti con la buona fede credendo eh di fare la volontà di Dio e l'abbiamo fatto veramente io non mi sento in colpa di cosa e ve lo giuro in verità non mi sento in colpa di nessuna cosa anche se il signore le sta cambiando però non mi sento in colpa perché tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con sincerità lealtà è in buona fede allora e poi il signore siccome noi siamo usciti eh da vecchi insegnamenti che erano tradizioni più che eh comandamenti da parte del signore erano tradizioni amén gloria a Dio allora eh quindi ripeto nel vecchio testamento soprattutto c'è c'è in un posto o due che sono andato a controllare proprio lo dice dice eh all'imbrunire ecco mi pare che dice così in base alla traduzione state attenti perché non vorrei che poi se qualcuno vi fa delle domande voi non sappiate rispondere e facete la figura di babbi no? allora dice e all'imbrunire all'inizio del nuovo giorno disse gloria a Dio te tu hai finalmente e si all'imbrunire che all'inizio del nuovo giorno e se gloria a Dio allora giusto avevo sempre capito no? il dialetto caputo eh che quindi eh all'imbrunire che all'inizio del primo del nuovo giorno gloria a Dio e allora eh state attenti perché è importante perché torno a ripetere noi siamo il fiore all'occhiello di Gesù e ci tengo che questo fiore sia profumato e non maltratato e allora noi lo facevamo all'imbrunire del quattordicesimo giorno però però attenzione che come facevamo noi già entravamo nel quindicesimo giorno noi capite biblicamente parlando non modernamente parlando ma ne altro non è ma fare cose per essere moderni noi dobbiamo andare avanti biblicamente parlando amen allora noi che cosa facevamo quindi noi per anni da quanto il signore ci ha detto che lo dobbiamo fare il 14 di marzo noi abbiamo fatto la santa cena entrando nel quindicesimo giorno amen ora non è che il signore dici ora non vale più che faccio perché non l'abbiamo fatto col cuore e allora vi spiego subito vede che sta ecco all'ammaestramento stasera gloria a Dio in questo istante sto sentendo che questo è il messaggio di stasera l'ammaestramento perché vi spiego subito quando gli hanno detto i discepoli dove vuoi che ti apparecchiamo la Pasqua è perché erano già nel tredicesimo giorno non state seguendo nel tredicesimo giorno però la dovevano preparare poi la sera perché entrava il quattordicesimo giorno ci siamo o dovevano preparare o prima cioè prima amén ecco perché gli hanno dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua e quando fu sera Gesù si misa a tavola ci siamo alleluia quindi allora fate bene fate bene attenzione perché la cosa è profonda e io ringrazio Dio e ne gioisco perché il Signore non si sta trattando non di peceri democcusi non si sta trattando di figlioli suoi eletti amén maturi seguitete allora Gesù quindi ah un esempio il giorno il sabato era giorno di riposo è vero sì o no mascoli e femmini perché vedete quanto c'è l'uso mascoli e femmini allora il sabato era giorno di riposo è vero quindi il giorno da celebrare eh era quindi qual era ora lo sboccio il sabato era il giorno di riposo quindi qual era il giorno appunto che si doveva celebrare che non si doveva a un neopresidente che mia vita è bene e allora il giorno da celebrare era il sabato o no era era quello che si doveva osservare o il giorno del sabato non lavorare che non si doveva lavorare si doveva quindi celebrare il signore era il sabato è vero allora la manna cagò oggi uno il sabato mattina ma frate capivo è rito sotto i baffi tu baffi non dai ridillo per te amante ho proprio spattito un baffalone e allora quindi state attenti allora il giorno che si doveva celebrare cioè festeggiare perché poi si offriva al signore il sacerdote insomma quel giorno era dedicato interamente al signore giorno di riposo però la manna quando la preparazione per il giorno per il sabato quando la facevano o vendetti è vero eh ora stessa cosa quando i discepoli gli dissero dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua ci siamo quindi quando gli hanno detto io hanno prima non io hanno sti su ci siamo sono riuscito a farmi capire quindi è corretto eh scritto che i discepoli hanno chiesto a Gesù dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua perché ancora erano il giorno quindi perché stasera c'è il quattordicesimo giorno maestro noi dobbiamo celebrare la Pasqua perché la celebrerete all'imbrunire e non è solo questo e qua è dove appunto il Signore credo che sia stato il Signore e lo credo fermamente ma poi se presunto non si deve essere manco quindi al 99,9% sento che la cosa è così che Giovanni Battista dice di Gesù ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo la Pasqua che cos'era? la Pasqua era la figura del sacrificio di Cristo perché dovevano immolare l'agnello è vero non è vero dovevano immolare l'agnello quando lo dovevano immolare l'agnello giorno chinnici o giorno quattordici è giusto quattordici e allora dice sì ma si poteva fare all'indomani ma seguite attentamente vuoi altri femminelli quindi Gesù è l'agnello ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato ci siamo fino a qui? state attenti perché io vi faccio ridere i poveri su figli perché così se vuoi un po' di sole e allora seguite l'anticipazione se la Pasqua l'avessero celebrata state attenti che qui sta il segreto e il valore se la Pasqua Gesù l'avesse celebrata con gli apostoli la sera del quattordicesimo giorno cioè alla fine del quattordicesimo giorno quindi all'imbrunire sarebbe entrato nel quindicesimo giorno è giusto? a questo punto non sarebbe stato più ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo perché Gesù doveva essere sacrificato un giorno quattordici invece in quella maniera sarebbe stato sacrificato un giorno quindici se la cena l'avesse celebrata la sera del quattordicesimo giorno perché poi entrava pur che sia a menzionotte come fa ora però eh perché dice questo perché quella sera stessa che era entrato il quattordicesimo giorno ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo allora Gesù celebra la Pasqua del vecchio patto inizia il quattordicesimo giorno lui viene dato nelle mani dei sacerdoti dei Ponzio Valate e tutto l'indomani perché tutta notte Gesù l'ha passato in le mani di Valate di sacerdote di Cristo e di Ghebio tutta la notte non è facile la notte Gesù perché era la sera che era iniziato il quattordicesimo giorno quindi lui viene poi crocifisso verso 9 di mattina alleluia viene condannato perché poi verso quando lui spirò si fece la tenebre per tutto il paese dall'ora sesta fino all'ora nona dalle dodici fino alle tre del pomeriggio quindi vedete che Gesù è stato preso durante la notte giudicato condannato cascug su pespaddi sul Golgota eh quindi crocifisso amén quindi già a menzionno Gesù spirò e si fecero tenebre per tutto il paese le rocce si schiantarono dice amén ci siamo quindi vedete se invece l'avessero celebrato il quattordicesimo all'endomani sarebbe stato il quindicesimo e non avessero inquadrato più con la Pasqua che Dio gli aveva fatto celebrare uscendo dall'Egitto o no siete d'accordo ci siamo avete capito pure voi di là sopra sentite di là però perché tutti dobbiamo sentire pure i bambini perché diciamo che facciamo queste cose e no figlio bello cavi da che fare con una chiesa scelta da Dio fatta da Dio amén gloria a Dio quindi vedete noi erroneamente però nella nostra semplicità abbiamo aspettato il quattordicesimo un giorno e quindi magari ritti ritti se la sembo che poi facciamo forse ritti ritti perché poi con l'imbrunio no niente se la sembo un tocchenecesimo niente se la sembo un tocchenecesimo un giorno vedete gloria a Dio eh non lo sapevamo eh no amén ma appunto vedi frate certo certo quando uno il Dio non è che fuggire puntato se non faccio i cose giuste io mi sparo no il Dio guarda il nostro cuore e siccome vedi per anni e noi siamo stati diciamo educati in quella maniera addirittura si faccia quando eh eh se vuole l'anno amén fa guardate fare la santa cena più volte l'anno significa crocifiggere Gesù più di una volta non mi vengano a dire ma noi lo facciamo per il Signore perché no perché per il Signore lo potevano fare anche gli israeliti eh quando il Dio glielo ordinò a Mosè i sacerdoti stessi avrebbero potuto fare dire e far fare la Pasqua più volte o no dire il Signore ci ha liberati dal paese d'Egitto celebriamo la Pasqua pur ogni primo mese dell'anno oppure ogni settimana oppure ogni anno no fratelli Mosè Mosè è stato punito per aver percosso la roccia due volte Gesù doveva essere percosso una sola volta infatti il Dio disse a Mosè la prima volta disse percuoti la roccia perché quella roccia come scrive l'Apostolo agli ebrei era Cristo amén quindi percuotere quella roccia che era Cristo significava percosso due volte che Gesù doveva essere crocifisso due volte ma vedete fratelli le profondità di Dio eh e oggi caprono i chiesi chiudono se ci arrivano qua antienare su può poter parlare io tremo figliole io tremo e faccio signore non mi fare sbagliare niente perché fratelli dalla bocca del pastore può uscire la salvezza e la condanna o la condanna guidare il popolo per essere salvato oppure per essere perduto ah ma la chiesa mi viene più vicino perché sei stato educato male tu devi andare dove il signore ti manda e dove poi riconosci eh che lì c'è il vero pane che scende dal cielo alleluia non perché si predica la parola a tutti i fatti tutto va bene tutto fa brodo no amen gloria a Dio quindi vedete doveva quindi coincidere alla perfezione perché Gesù cominciava da Sira eh quindi guardate come se la sera fosse stata la figura del vecchio testamento la sera e durante la tutta la notte il periodo eh che Gesù viene per essere crocifisso per morire amen quindi quell'arco di tempo tra la sera e la quindi tutta la notte e la mattina è come lo spazio che esisteva tra il vecchio testamento con l'agnello simbolo della Pasqua di Cristo amene e ora il vero agnello Gesù che viene immolato il giorno quattordici figliole giorno quattordici vedete che era quel Gesù quell'agnello era la figura di Cristo quindi Cristo Gesù non poteva essere sacrificato perché sarebbe stato come diciamo celebrare la Pasqua invece del quattordici marzo o chinnici e no perché il Signore l'ha raccomandato e se ci fate caso guardate quanto è importante il giorno che potrebbe sembrare ma si è attaccato a queste cose o io non 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 tanto è vero guardate che il giorno ha il suo valore insostituibile che il Signore dice a Mosè se qualcuno si trova in viaggio e non può celebrare la Pasqua giorno quattordici di marzo che celebra la Pasqua il quattordici di aprile ci potremmo dire voi hanno appresso perché guardate perché non sarebbe stato diciamo bellissimo umanamente parlando visto che la Pasqua era il primo giorno degli azini amen dici che sono noccioline allora con la Pasqua iniziava quindi era il primo giorno degli azimi dice che vuole dire che dal quattordicesimo giorno fino al ventunesimo giorno si dovevano mangiare pani azimi setti anni dopo il giorno ventuno ci siamo è scritto tutta la Bibbia amen l'avete capito questo o mi spiego una ruota praticamente quando loro festeggiavano celebravano la Pasqua non si fermavano soltanto a giorno quattordici poi dovevano continuare a mangiare pane azimo cioè non lievitato altri sette giorni sette giorni compresi fino al ventunesimo giorno oh seguitemi attentamente amen se che era in viaggio o aveva toccato un morto perché dice diventava impuro che aveva che aveva toccato un morto diventava impuro era impuro dalla mattina fino alla sera si impuro non ti puoi celebrare la Pasqua giorno quattordici perché hai toccato un morto e quindi si impuro dalla mattina alla sera allora c'è la tua famiglia ogni anno dopo che siamo già sempre nei sette giorni degli azimi oh no io penso che era una cosa corretta dice vada ne cade io a pennello siamo in sette giorni degli azimi allora invece di giorno quattordici giorno quattordici diciamo pur sì diciamo 17 che ci fa no no tardi settionna tu non celebrerai la Pasqua anzi ah 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 anzi quello che il Signore mi sta facendo rogudare è che non rimanga niente fino al mattino dell'agnello dell'agnello che hai sacrificato per celebrare la Pasqua perché al mattino quella carne quei resti dovevano essere bruciati amén picchi perché appunto Gesù doveva racchiudere tutto in quel giorno eh il sacrificio gloria a Dio vedete quanto è meraviglioso Dio figliole che ne sapevo che cancio questa religione diventato manciolista sono diventato un vero figliolo di Dio perché prima non sapevo distinguere la mia mano destra dalla sinistra ora il mio Gesù il mio padre celeste mi sta spiegando ogni cosa non canciai religione il Signore mi sta facendo conoscere la verità in una maniera sempre più profonda mi sta facendo comprendere il vero valore del sacrificio di Cristo amén gloria a Dio quindi figliole ci sono chi che fanno tutti i mattini ci sono chi che fanno una volta la settimana ci sono chi che fanno una volta a un mese ci sono una volta che date i battesi e tutte le cose guardate che confusione che c'è in giro e mi vengono a parlare male tuo fratello De Luca ma stiamo scherzando all'assate chiudete i vostri chiesti venite qua e apprendete da parte del Signore tutto quello che non avete capito mai in tanti anni di traduzione amén alleluia ora quello che noi facciamo lo facciamo perché siamo convinti coscienti di quello che il Signore ci sta insegnando e ci sta facendo fare amén e qui mi fermo alleluia quindi ecco nel motivo per cui a Dio piacendo celebraremo la Pasqua la Santa Cena giorno 13 sera perché giorno 13 sera inizia il nuovo giorno chiamato 14 giorno del mese amén e Dio ci benedica a Dio sentì scopri cose l'amore di amore di Sio sono e sono per e vivo in quei che cercano il mio nome con fede con speranza e carità nascendente al giorno del gran Dio che avviene la speranza premeterna l'amore e che la incoglienta nel luogo che sopra si morerà e il nome che Gesù con santo amore nella sua vita e il luogo che avverrà del padre buono la vita avrà il povero don del Signore che il Signore prende a lui dice che il tuo bisogno il mondo non sapete che di una luce vede mai per te a questo io dico avanti al giorno che il mondo trovi infine la fine e i grandi senza Dio passeranno cari uno volete si perderà e poi che Gesù costri ha la cuore nella sua vita e in lui ti averà del padre buono la vita avrà Ma vedo Madone per più sostegno, di mani volte invenite all'amore, ma come al suo marito il tuo Signore, per dirgli di vergliare il figlio il suo. Ma vedo Madone per più sostegno, di mani volte invenite all'amore, ma come al suo marito il tuo Signore, per dirgli di vergliare il suo marito il tuo Signore, che sono con te. E il cuore di Gesù, nostra amore nella sua vita, e lui mi amerà, per fare il tuo cuore, la vita avrà. Perché fratelli, c'è molta invidia, c'è molta gelosia, c'è molta maldicenza in tutte le chiese e la colpa è degli anziani. Perché loro intanto dovrebbero convertirsi veramente al Signore e poi educare le pecorelle, se tali sono, nella verità di Dio, nell'amore, nel perdono, nella pietà, nella misericordia. Le maldicenze non devono esistere né nelle chiese, né nelle famiglie, né nelle persone singole. La maldicenza non deve esistere. Bisogna sforzarsi di camminare, andare avanti e adarsi a vicenda. Il proprio orgoglio deve essere estirpato, eliminato per sempre. Perché l'orgoglio è quello che ha ucciso e continuerà a uccidere i credenti. Il Signore, vedete, ai sacerdoti allora, perché non sapevano educare bene le pecorelle del Signore, li ha chiamati sepolcri imbiancati, ciechi e guide cieche, che non entravano loro e non avrebbero permesso di entrare anche quelli che avrebbero voluto entrare nel Regno dei Cieli. Purtroppo, vedete, questa grande responsabilità nessuno la conosce, perché non la sente, perché se uno la sente, il Signore lo fa conoscere e ci modella piano piano. Nessuno è nato perfetto. Tutti veniamo dalla stessa fonte, tutti siamo figli di Adam e Eva, quindi nessuno di noi è nato perfetto, senza peccato. E quello che il Signore proprio mi ha fatto venire alla mente è questo. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 5, voglio soltanto leggerlo, Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Ora, Signore, Signore, conosci il Signore? Conosci il Signore? Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Vedete come si predica l'Evangelo in giro, non dei suoi buoni volantini e invitandole nelle chiese a mangiare e a ballare e suonare. Non pensate, disse Gesù, che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Qualcuno che è più suito da mia, che vuole dire abrogare? Amen, amen, amen. Amen. Capite? Quindi io non sono venuto. Quindi non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge, cioè a togliere. Chi era nel Vecchio Testamento? Cosa dice Gesù? Io sono venuto per annullare il Vecchio Testamento? Io non sono venuto, non pensate che io sia venuto ad abrogare, quindi a spazzare via, a togliere, ad annullare, annentare, a cancellare la legge o i profeti. Ci siamo! Quindi Gesù dice, vedete quindi che è Gesù, ma fratelli, è il Vangelo corretto quello che predicano tanti che dicono che chi era il Vecchio Testamento? Che momento ci fanno disprezzare? Eh? A tutti. Gesù dice, non pensate in questa traduzione, perché altre traduzioni magari useranno parole diverse, ma lo significate sempre chi è lui. Ci siamo? Alleluia! Non pensate che io sia venuto quindi ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, non dici fino a quando io muore e poi risuscio tu. ma fino a, perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure uno iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. E chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma colui che le metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Amen. Guardatevi bene dal disprezzare le scritture. Gesù nei suoi insegnamenti e come ci dava Mosè e i profeti e ci disse insensate e tardi di cuore a credere che noi ci potevano dire vabbè ma che noi eravamo venguti a questo. Amen. Ci siamo. Vedete che tra noi e tanti altri credenti c'è un abisso a causa della presunzione della maldicenza dell'invidia e della gelosia che noi tutti ci dobbiamo guardare. Amen. E Dio ci benedica. Alleluia Alleluia Benedetto il tuo santissimo nome Alleluia Grazie per la tua santa e divina presenza come sempre Padre nostro perché anche questa sera ci hai spiegato quello che nessun professore potrebbe mai spiegarci perché non conosce le profondità del tuo santo spirito Alleluia Gloria al tuo nome Alleluia Signore perché tu eri lì Signore quando facesti uscire il tuo popolo dal paese d'Egitto tu eri lì quando ordinavi e loro celebravano la Pasqua secondo i tuoi insegnamenti Signore come avevi stabilito tu Signore sei stato sempre con il tuo popolo quando sei stato obbediente e Signore in questi ultimi tempi hai scelto noi perché ci hai visti Signore non perfetti ma di un cuore semplice volenteroso di fare la tua volontà qualunque essa sia a costo di mettersi contro Signore al mondo intero ai religiosi che credono di essere Signore predotti di sapere spiegare le scritture perché le sanno comprendere ma l'unico e il vero maestro sei tu e rimane sempre tu a bala gloria al tuo nome e questa sera ce ne hai dato dimostrazione spiegandoci minuziosamente i minimi appunto particolari Signore di quella Pasqua vera Signore è il giorno l'ora e come e noi vogliamo esserti figlioli ubbidienti in ogni cosa quindi prepara il nostro cuore per celebrare appunto la Santa Cena con la tua presenza Signore e con la tua santa benedizione insieme a Gesù con te benedetti in eterno alleluia amen 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 chi sia lo dato amen è giunto al termine così quest'altro culto che abbiamo insieme eseguito attraverso il quale ancora oggi ancora in questa sera il Signore ci ha parlato bene insieme con tutti gli altri culti già trasmessi e messo a vostra disposizione per sempre sul canale YouTube la pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano Radio Messaggio Cristiano sulla nostra frequenza che raggiunge Messina Reggio e Provincia e la provincia di Catania continuerà a tenervi compagnia con l'ultima trasmissione e potete guardare invece i saluti e la buonanotte del fratellonino attraverso il calendario di Radio Messaggio Cristiano ogni sera sulla nostra pagina Facebook calendario col versetto tratto dalla Bibbia e un relativo commento che il Signore gli dà per ognuno di noi bene seguiteci sempre su YouTube e Facebook i culti vengono trasmessi ogni martedì e venerdì sera come questa sera e le dirette del fratellonino ogni domenica mattina alle 10 e un quarto in diretta via radio su YouTube e Facebook prima di salutarvi definitivamente vi ricordo come faccio sempre il nostro numero di telefono 349 64 11 232 come sempre lo ripeto 349 64 11 232 bene non ci resta che salutarci e darci appuntamento alla prossima trasmissione del culto pace a tutti buona visione da Radio Messaggio Cristiano grazie a tutti